Come posso quest'anno, in questo tempo di pandemia, far arrivare alle famiglie un messaggio di speranza, un messaggio di gioia? Come posso fare? Come posso dire alla gente che è nato Gesù, quello che porta la pace, quello che porta l'amore? Come posso trasmettere questo messaggio di speranza? È difficile. Oltre il Giordano mi vedrai, danzare spirito nel buio. Brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo e a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio. Senti il tuo cuore adesso è sulle cime, e accende spirito nel buio. Ho acceso spirito nel buio, da quello oscuro d'or di pianto, dammi il tuo bacio quotidiano. Illimitato il mio tormento, sacro e profano, questo amore mio, che accende spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio. che accende spirito nel buio. Oh yeah! Accendi anche tu, la luce nel buio del tuo cuore. Buon Natale! Buio! 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 Buio!